Mi dicono dai non pensarci Potresti almeno provarci Come servisse a scaldarci Come servisse a salvarci Dovra spegnere la scheda Mi dicono dai non pensarci Potresti almeno provarci Come servisse a scaldarci Come servisse a salvarci Mi dicono dai non pensarci Potresti almeno provarci Come servisse a scaldarci Come servisse a salvarci Come servisse a scaldarci Come servisse a scaldarci Mi dicono dai non pensarci Potresti almeno provarci Come servisse a scaldarci 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 Mi dicono dai non pensarci Potresti almeno provarci Come servizi a scattarci Come servizi a salvarci Nulla è permanente, niente è duraturo Ma questo è proprio ciò che noi esseri umani Non riusciamo ad accettare Il nostro ego si oppone Questo io, per quanto ridicolo possa a volte sembrare Vorrebbe vivere in etero Non ci si può aspettare che l'ego rinunci di buon grado al proprio predominio Nella misura in cui muore il nostro piccolo io Questo aggregato di processi psichici, pauroso, disperato, aggressivo, opportunistico Manipolante e troppo diranno gioioso Si sviluppano di pari passo la fiducia La vera gioia E una ferma speranza